appassionati motociclisti vi presento il motomuseo è un luogo magico dove le vostre moto sono le protagoniste indiscusse qui le vostre due ruote vengono esposte e celebrate come vere e proprie opere d'arte pronte a trovare un nuovo appassionato che le porti a casa questo servizio gratuito con cuore e passione vuole creare un'esperienza indimenticabile per tutti gli amanti delle moto trattando ognuna di loro con la cura e il rispetto che meritano il motomuseo è il luogo dove la filosofia del motociclismo incontra l'arte l'amore e la dedizione che solo noi italiani sappiamo offrire ed oggi sono qui per parlarti della leggendaria yamaha r7 del 1999 una moto da competizione che ha fatto sognare tanti piloti professionisti e appassionati del motociclismo la r7 basata sulla yz f750 è stata progettata per partecipare alle corse del campionato mondiale superbike e yamaha ha fatto un lavoro incredibile nel renderla una moto da sogno il motore a quattro cilindri in linea da 749 centimetri cubici è stato realizzato con una cura maniacale erogando una potenza massima di 106 cavalli a 11.000 giri al minuto ma la r7 non ha solo un motore potente il telaio a traliccio in alluminio garantisce una rigidità strutturale senza pari mentre il sistema di sospensioni olis completamente regolabile offre un'esperienza di guida unica la moto è stata inoltre dotata di un sistema frenante preciso e potente il che la rendeva una moto di grande precisione e prestazioni il design è stato curato nei minimi dettagli con una carenatura che copre completamente la moto e un serbatoio aerodinamico che rende la moto ancora più aggressiva e sportiva la colorazione yamaha con dettagli bianchi e rossi completa il look unico della r7 prodotta in soli 500 esemplari e venduta solo in alcuni mercati selezionati la yamaha r7 del 1999 è diventata un oggetto di culto per i collezionisti e un'indiscussa icona delle corse una moto da sogno per chiunque ami il motociclismo e la bellezza delle moto sportive se sei un vero motociclista nostalgico saprai benissimo il valore effettivo di questa opera non limitarti a sognarla compila il modulo di contatto nell'annuncio del sito per prendere un appuntamento dedicato verrai chiamato dal nostro consulente specializzato nelle moto da collezione oppure scopri le altre moto di lusso presenti nella sezione moto exclusive del nostro sito moto argento.com moto argento è specializzata nella vendita di moto super sportive naked ed oltre alle vendite offriamo una vasta gamma di servizi per coccolare e migliorare la tua moto moto arte vendita moto museo assistance dedication performance engineering technical race suspension premium deluxe tutto questo è moto argento amore passione dedizione sempre